ciao a tutti allora finalmente un video dopo alcuni anni di vita della app per dire grazie a chi ha fatto il download della app ovviamente dire grazie che si è abbonato non ci saranno aumenti di nessun genere per nessun servizio e qualche indicazione logistica chi segue in tempo reale dalla sezione trades tutte le operazioni fatte può farlo per avere più velocemente notifiche anche tramite il canale telegram della molti già degli abbonati sono entrati chi volesse ricevere il link d'invito è sufficiente che mi contatti anche tramite il tasto proprio della app dal menu iniziale in fondo c'è il tasto whatsapp per scrivermi e gli manderò il link avete notato magari ultimamente anche nella sezione dell'analisi dei mercati alcune analisi non più solamente di analisi tecnica ma anche qualcosa di contesto chiamiamolo tra virgolette macroeconomico quindi cercheremo sempre di farlo di più per dare un servizio più idoneo e più esteso a tutti in merito ai mercati la situazione ecco possiamo fare anche un commento veloce rispetto al solito commento in pdf la situazione chiaramente senza direzionalità nelle ultima giornata sparata rialzo dopo i dati del lavoro usa le due giornate prima al ribasso ieri ho preso subito profitto anche se poco ad esempio sullo short divisa abbiamo trade aperti sia in long che in short che seguiamo costantemente abbiamo alcune posizioni che si sono ben rimesse in careggiata come euro contro canada o euro contro sterile ma seguiamo seguiamo tutto quindi quotidianamente continueremo a fare le nostre operazioni molto molto bene sta andando anche il trading intraday e lì consiglio per chi è abbonato proprio di entrare su telegram scrivendomi perché si ricevono in tempo reale più velocemente le notifiche si può operare al meglio cercheremo quindi di proseguire come abbiamo fatto finora se qualcuno ha qualche suggerimento sempre tramite il tasto whatsapp che ripeto è nel menu iniziale l'app in fondo mi può scrivere se ci sono qualche idee se c'è qualche idea che 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 vi viene in mente una sezione nuova da aggiungere ma e così via insomma sono sono ovviamente benvenute poi altra cosa di carattere logistico per chi fosse dalle parti di gorizia più precisamente a ronchi il 14 giugno saremo con manuela donghi per presentare il nostro libro a ronchi al festival del giornalismo chi facesse una recensione su amazon del nostro libro libro lo sapete comunque lo dico si intitola io speriamo per la borsa sale chi facesse una recensione su amazon mi contatti perché esiste anche un canale telegram dedicato solo a chi ha fatto recensioni dove c'è materiale esclusivo che solamente sul canale telegram andiamo io e manuela inserire quindi sono tante le opportunità ripeto chi è abbonato alla pace della sezione trades può vedere tutte tutte le operazioni in tempo reale il servizio non subirà alcun aumento nonostante l'inflazione ok scusa che molti utilizzano per aumentare i prezzi non è non è il nostro caso quindi semplicemente lasciamo in merito alle posizioni aperte agli stop invariati lunedì andremo a vedere se c'è altro da fare a parte l'intraday che salvo sorprese facciamo una volta al giorno tutti i giorni e oggi nella sezione analisi mercati ho inviato già notifica abbiamo inserito un titolo italiano cna candaster che è molto interessante graficamente quindi semplicemente ancora un grazie a tutti voi che avete la app sul vostro smartphone e accettiamo nuove nuove idee per cercare di offrire sempre sempre qualcosa in più un saluto a tutti buona domenica buon trading con scatta col trend